Il museo archeologico di Frosinone verrà ampliato, non solo avrà una doppia casa, è quanto ci anticipa il sindaco del capoluogo Nicola Ottaviani. L'attuale sede di via 20 settembre verrà ampliata grazie a dei locali attigui che verranno concessi in comodato d'uso, mentre l'altra possibilità al vaglio dell'amministrazione comunale è quella di utilizzare la scuola primaria di via Giacomo De Matteis come seconda sede museale. Stiamo invece noi valutando la possibilità di tenere sì il museo nella parte alta, allargarlo di circa 110-120 metri quadri grazie a quello che è un comodato d'uso che dovremmo ricevere da qui a breve da un'associazione di volontariato perché sembra che ci sia un appartamento che sia contiguo a quello dell'area dell'attuale museo concedibile all'amministrazione comunale per circa 20 anni e passare però in tempi ragionevolmente brevi all'indicazione di un secondo sito per ospitare quelli che sono i reperti archeologici magari a ridosso della villa comunale. Si è ipotizzato infatti in sede di giunta, ma dobbiamo approfondire questo argomento, di mettere a disposizione la scuola di via De Matteis. Nel caso in cui dovessero arrivare i finanziamenti della regione per completare quella che è l'opera della scuola in via Madonna della Neve si libererebbe una struttura importante, non certamente fatiscente, una struttura in grado di ospitare anche per i solai che ha al primo e al secondo piano quelli che sono i reperti di maggiore incidenza perché nella parte alta del centro storico questi reperti o non entrano o hanno difficoltà anche per quanto riguarda l'associamento sui solai. Quindi questa seconda superficie, questa seconda area di ospitalità per quanto riguarda i reperti archeologici potrebbe diventare una realtà nello stesso momento in cui dovessimo riuscire ad avere quel finanziamento che stiamo chiedendo a più riprese dalla regione per la conclusione dei lavori nella zona di via Madonna della Neve. In merito ai recenti ritrovamenti archeologici, il comune di Frosinone ha tutta la volontà di valorizzarli. Sentiamo come. Dobbiamo cercare di trovare delle risorse perlomeno per coniugare la presenza di questi reperti con le edificazioni che già sono sorte e già sono nate. È un po' quello che è avvenuto ad esempio a Perugia nel corso degli ultimi 40-50 anni quando sono state costruite anche lì delle scale mobili, dei sistemi urbani, ma grazie al plexiglass e grazie ad altre soluzioni in vetro quei reperti oggi ancora sono visionabili. Ecco, molto spesso si è scesi nella dicotomia assoluta o reperto o innovazione. In realtà i reperti possono essere assolutamente resi visibili e coniugati anche con innovazioni di carattere urbanistico ed architettonico importante che rendano però accessibili questi che a tutti gli effetti sono dei tesori di carattere pubblico e devono rimanere nella disponibilità della collettività.